Sanità Francesco, di cuore in parte dell'organizzazione apostolica, la dillo Viglia Poco e Selena Atala in occasione del patrimonio e in bocca sulla nascente famiglia continua con sui di grazia celesti per una costante crescita della fede e dell'amore. Parrocchia Santa Maria della Speranza e consigliamo a Giulia 1 ottobre 2022. Nel nome del Signore, andiamo in pace. Un applauso all'esposto. Grazie a tutti.